Salve, un saluto a tutti, sono Gilberto Desiati, il sindaco di Villanueva del Ghebbo e siccome sono stufo delle parole, allora adesso ve le suono, così rimangono più in testa Io resto a casa perché Voglio che vada tutto bene Anche tu a casa cerca di stare Solo al lavoro, al medico andare Certo puoi fare la spesa Ma cerca di non uscire la sera Se per strada sei tra la gente Non ci hai capito proprio niente Da bravo diamoci una mano Piuttosto stai fermo per ore sul divano Se restiamo a casa Sai che c'è... Andrà tutto bene Ciao, andrà tutto bene ma stiamo a casa